Come hai avuto la passione? In Val Sarentino e questo mi ha fatto tornare parecchie volte a seguire dal momento dell'uccisione del maiale, quando si taglia l'erba oppure si fa il pane, tutti i momenti di un anno sul maso e da lì ho cominciato a girare le vali. Poi sicuramente c'è stato il fatto che lavoro con queste riviste di viaggi, il mio lavoro mi ha portato proprio a fotografare le bellezze della nostra terra, però queste terri sono molto turistiche, anche i servizi sono molto richiesti. E perciò è stato un continuo andare e tornare in queste valli favolose che abbiamo e perciò a un certo punto mi sono detto perché non mettiamo insieme il tutto e proviamo a fare un libro su questa terra che mi ha dato moltissime soddisfazioni. In effetti il materiale era tantissimo e grazie anche all'Euregio poi siamo appunto riusciti a mettere insieme il tutto e riuscire a fare una bella pubblicazione con ben mille foto, 650 pagine, un volume un po' pesantino. C'è una prima parte dedicata un po' al bianco e nero che è stato un po' ai miei inizi dove ho iniziato appunto nell'88 con delle immagini sui masi con le quali appunto ho vinto il film festival della montagna di Trento e da lì era un po' partito tutto, però poi abbiamo diviso tutto il lavoro nelle quattro stagioni perché proprio da noi molto più che da tante altre parti le stagioni si vedono ancora molto, cioè quando nevica nevica, poi c'è una bellissima primavera con le fioriture anche nei meletti e così, poi un gran bella estate in montagna, l'autunno con i suoi colori splendidi, se pensiamo che solo in questi 300 chilometri passiamo dagli olivi fantastici del Garda, i limoni, alle montagne con i ghiacciai e tutte queste cose, c'è veramente un mondo che ben difficilmente si trova nelle altre regioni europee.